Gravità Zero è pronta per domani, si va in scena con un palcoscenico molto grande che sarà il centro storico di Gela, un evento che è arrivato alla sua seconda edizione e già questo è un bel traguardo, Gela in arte, come sarà articolata la Notte Bianca? Sì, come dicevi benissimo tu questa è la seconda edizione, quest'anno abbiamo avuto anche l'opportunità di riuscire ad avere un po' più di tempo per poter organizzare la manifestazione e questo sicuramente ci ha dato subito riscontro perché ci sono diverse associazioni che quest'anno aderiscono all'iniziativa e questo ci consentirà e ci consente sicuramente di poter offrire alle persone che verranno a trovarci anche una varietà artistica di esibizioni diverse rispetto a quello che era l'anno scorso, è un po' un'evoluzione, in effetti è un traguardo che siamo riusciti a raggiungere facendo questa seconda edizione. Come sarà articolata la serata, a che ora si partirà e quali zone del centro storico saranno coinvolte? Diciamo che il centro storico sarà coinvolto quasi interamente, in particolare dalla chiesa madre fino ai quattro canti dalle 18 partiamo con la sfilata di auto d'epoca e poi dalle 21 a cadenza di circa di mezz'ora, dalle 20 e 30 a cadenza di circa di mezz'ora ci saranno diversi spettacoli, teatro, musica, pittura, la pittura inizia dalla mattina perché ovviamente i pittori hanno bisogno di più tempo per dipingere esibizioni di ginnastica artistica, insomma un mix vincente che l'anno scorso ci ha portato degli ottimi risultati che riproponiamo anche quest'anno sicuri che le gelesi e i gelesi che l'anno scorso hanno affollato il centro anche quest'anno gradiranno quello che la nostra associazione insieme alle altre proporrà. Negozi aperti per i ritardatari dello shopping? Sì vabbè appunto anche il consorzio Gera Centro quest'anno diciamo ha aderito all'iniziativa, era importante che anche loro appunto essendo le prime diciamo più interlocutori del centro storico, quelli che comunque ci credono investono nel centro storico con le proprie attività insomma hanno aderito diciamo di buon grado alla serata diciamo che si andrà a svolgere proprio domani. Quindi diciamo questo mix anche diciamo suggerito dal nostro direttore artistico che croce a tardi, dalla nostra vicepresidente che è Anna Salsette e da Martina Rinsivillo che anche lei fa parte in qualità di segretaria dell'associazione Gravita Zero.